bene ragazzi buonasera siamo qui oggi con un nuovo video finalmente possiamo proseguire con i lavori allo zip 172 anzi no in realtà è un po di più cento quant'è che cento non mi ricordo più l'ho scritto l'altra volta perché avevo fatto i calcoli questa sera proveremo a modificare l'impianto elettrico e faremo qualche altro qualche altro lavoretto che poi vi mostreremo nel frattempo è stato fissato quasi radiatore quasi e cos'altro hai fatto poi nel frattempo ha trovato la batteria che era sparita nei meandri del garage ok in attesa del collettore che andrà qui per am6 non è ancora arrivato perché non si muovono a spedircelo e basta per adesso qua c'è il clacson che lo stavo cercando perfetto bene per adesso è tutto a tra poco nel frattempo sto divertendo con le carene ha fatto sei buchi e si è già stufato voglio buttarvi lo scosso occhio allora l'impianto elettrico l'ho finito finalmente fatto bene allora giro la chiave fai le prove vai allora intanto le spie funzionano già testate ok vabbè funzionano poi accendi i fanali ok fanale davanti vai premi lo stop perfetto freccia sinistra perfetto freccia destra ok vediamo anche davanti metti l'altra freccia ok ok adesso spegni i fanali che sennò rimane senza batteria perfetto adesso c'è il test migliore il clacson wifi guardate che clacson che ha trovato vai una giga sola eh dio ma porca voglia ok qui adesso vieni a fare bene tutti i cavi è posto e cosa manca ah il motore in avviamento che però no se no spiaccola anche mi becco la 220 prova piano eh ho paurissima vai perché non va più dove l'avevi collegato per l'avevi appoggiato qua ok 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 funziona anche questo benissimo basta abbiamo fatto vedere tutto ah giusto le spie qua sopra aspetta che vengo di qua fai vedere anche le spie della freccia ok va bene poi si questa qua abbiamo già testato non stiamo a farlo perché non c'abbiamo voglia bene funziona tutto eh cosa vuoi dire ai nostri spettatori non vedo l'ora adesso vediamo qua più che altro perché qua sta procedendo con i lavori adesso io vado a casa lui si divertirà tutta la notte a trapanarmi coglioni a trapanare anche anche la vita bene per adesso è tutto ci torniamo al prossimo video un saluto dalle mie mani pulitissime alla prossima un saluto dalle mie mani pulitissime alla prossima